Cosa avremmo fatto di tanti mattoni e di tanto cemento se prima l'ingegnere non avesse progettato questa casa? A che scopo ci saremmo alzati così di buon mattino anticipando il sapore del sudore? A che scopo, a che scopo, con l'aria frizzante dell'alba ci accompagna l'odore del pane e del caffè e siamo allegri perché l'ingegnere ha progettato questa casa con amore, con amore. Grazie. 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 Grazie.